Grazie a tutti. Un altro premio che arricchisce il tuo curriculum. Un altro premio che mi onora ricevere, come tutte le... fa sempre piacere avere un riconoscimento, avere qualcuno che ogni tanto ti dice sei brava, quello che fai vale qualche cosa e hai aiutato qualcuno. Il premio di questa sera che mi viene assegnato e il riconoscimento dato dalla Presidenza della Repubblica... Tu, Refato di Presente, quindi sono Sky TGV. Conduco il pomeriggio e preparo l'approfondimento del pomeriggio tutti i giorni e lavoro in una giornalistica splendida. Non posso dire questo. Il mio direttore Emilio Carelli è una persona che tutti i giorni ci dà l'opportunità di poter dare il meglio di noi stessi. Il piacere è poter ricevere un premio nella mia terra. Comunque, allora, qualche chilometro di differenza. Roma, Aversa, Sorrento. Un premio per la TV? Ormai sei sulla cresta dell'onda. Mi fa piacere ricevere questo premio come conduttrice dell'anno. Sono tarata e ci sarà il mio trentesimo compleanno, quindi diciamo che è stato un bellissimo anno. Allora, Alessandro. La Sorrentina, premio comicità. Allora? Siamo nella penesina Sorrentina, premio comicità. E allora? E allora ci pigiamo. Ci pigiamo. Ci pigiamo. Per esempio questo Napoli, che dici? No, siamo alla Napoli, ma in tutto questo caso. E non è più premio comicità, ma è premio tram. Non è un'amicità. Un po' nell'età si comincia a sentire anche me, come c'era 31 anni. Quindi, non più tanto giovane. E allora, cosa dire? Ricevere un premio è sempre bello. Voi avete, oltre al bellissimo panorama, eccetera, poi una simpatia e un'idealità personale. Quindi, per una persona che viene da fuori è sempre bellissima. Venite a trovare. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.